Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità. Venerdì della prossima settimana, 7 luglio, è previsto uno sciopero del trasporto pubblico indetto dal sindacato Faisa Confail. A Roma e nel Lazio saranno interessate Atac, Roma TPL e Cotral. Saranno quindi possibili stop dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio sulle linee di bus, filobus, tram, metropolitane e sulle ferrovie termini Cento Celle, Roma Nord e Metro Mare. Possibili ripercussioni anche sul servizio bus notturno. Dettagli e aggiornamenti sulla protesta del 7 luglio sono su romamobilita.it Grazie per la visione!